Per la seconda serata consecutiva al Politeama Genovese è Eureka, che è l'ultima creazione di Catacolo Athletic Dance Theatre. La novità di quest'anno è che mi sono spinta oltre quello che già avevamo sperimentato e quindi l'idea creativa viene condivisa con 5 persone che si sono autocandidate del pubblico ogni sera diverse che prendono parte in forma conclusiva dando il proprio contributo al processo creativo. Per cui lo spettacolo è uno spettacolo di grande intensità fisica e emotiva, in alcune delle coreografie appunto c'è questa condivisione molto bella e interessante con persone pure, ignare, che non conoscono il movimento. I danzatori Catacolo sono atleti danzatori poliedrici quindi lavorano, lavoriamo tanto sulla parte fisica ma anche sulla parte coreutica e perché no anche molto sulla parte proprio teatrale. Per cui ci vuole grandissima preparazione, tante ore di prove e soprattutto poi anche un'energia molto alta per poter sostenere veramente un lavoro molto complicato che spaziando tantissimo richiede una grandissima forza, una grandissima presenza scenica e quindi la capacità anche di grandissima concentrazione.